gentili telespettatori buona giornata dopo la proposta che ha fatto ellish line a giorgia meloni di fare il confronto televisivo quello tra loro due sui social allora io propongo il mio canale tele italia su youtube per questo confronto ex televisivo che diventerebbe un confronto social propongo tele italia io posso fare le domande con una diretta alle due parliamoci chiaro tele italia è il principale canale youtube dove c'è un commentatore che parla di politica con 339 milioni di visualizzazioni su tele italia e 10 milioni su tele italia seconda rete e sono due canali che sommano 350 milioni di visualizzazioni in cinque anni ed è l'unico canale che ha questo volume di visualizzazioni quindi offro il mio canale per questo confronto tra la presidente del consiglio giorgia meloni e la leader dell'opposizione la segretaria del pd ellie schline fatemi sapere ci conto arrivederci a tutti e grazie